Se mangi hamburger ti si vede in faccia. Che il cibo dei fast food non sia un tocca sana per la linea ormai è notorio, ma a dei dermatologi arriva ora un nuovo allarme per quel che riguarda gli effetti negativi dei panini con salsa e carne macinata per la pelle. Arrossamenti, prurito, desquamazioni, acne e dermatiti irritative sono tutti disturbi che si possono manifestare per colpa dell'alimentazione da mordi e fuggi. I condimenti e le varie sostanze impegnate per cuocere carne e pane, spiega Fabio Rinaldi, dermatologo e presidente dell'International Hair Research Foundation, possono provocare spesso una situazione di intolleranza e irritazione che crea dei problemi alla pelle. E anche chi è intollerante al lattosio e pensa di poter stare tranquillo mangiando un hamburger deve stare in guardia, perché, avverte l'esperto, nella carne dei fast food c'è spesso un'alta quantità di lattosio.